Buonasera a tutti, buonasera a capatavola, ma insomma ragazzi volete dire cos'è successo? Io ho aspettato un'ora, un'ora come fosse, niente di noi abbiamo aspettato, e come? L'estate a Roma i cinema sono tutti chiusi, oppure ci sono film come Sesso, Amore e Pastorizia, Desideri Bestiali, Biancaneve e I Sette Mediari, oppure qualche film dell'horrore come Henry, oppure qualche film italiano. C'è un'imitation di Picasso, tu vai? Beh, sì, un'imitation di Picasso, sì, Picasso, Picasso, tutto qui, perché? Amen, naturalmente, Picasso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.